Forza Italia di Pesaro Urbino riparte da Elisabetta Foschi. Il partito punta sull'assessore Urbinate, già commissario provinciale, come candidata unica al congresso di Pesaro Urbino che si terrà domenica 3 dicembre dalle 10 al Tagotel di Fano. Mozione congressuale che per la Foschi è strettamente collegata al sostegno nazionale ad Antonio Tajani. I congressi si svolgono in tutte le province d'Italia perché oltre ad eleggere il coordinatore provinciale e il coordinamento provinciale verranno eletti i delegati nazionali che quindi andranno a Roma il 23-24 febbraio per eleggere il segretario nazionale. Questa è la scadenza a cui il partito di Forza Italia ha dato seguito dopo la morte del presidente Berlusconi. Noi abbiamo eleggere il segretario nazionale quindi era doveroso aprire la stagione congressuale ma anche a livello provinciale ormai erano da anni che non si svolgevano congressi. Io stessa sono stata nominata commissario nel 2019 e quindi un appuntamento importante anche di confronto interno, di dibattito interno come è giusto che avvenga nei partiti. Annunci che sono arrivati oggi in una conferenza stampa tenutasi nei locali del Bar Figaro di Pesaro, capoluogo di provincia sul quale Forza Italia proietta strategie per scardinare la roccaforte di centro-sinistra. Questa è una provincia storicamente di centro-sinistra dove proprio perché storicamente di centro-sinistra di fatto la classe dirigente di sinistra pensa che il consenso sia quasi un atto che viene così a sé senza collegarlo al merito o al giudizio sull'amministrazione o su come si è governato magari il proprio territorio o la propria città. Ed è proprio in questi momenti che se il centro-destra sa aprirsi e sa guardare anche oltre il confine del centro-destra parlando ad associazioni, a mondi che tradizionalmente magari hanno votato il centro-sinistra si può realizzare la svolta. In questa provincia è già successo, è successo prima a Fano e poi a Urbino dove il centro-destra non solo ha vinto ma dopo il primo mandato è stato anche in grado di confermarsi. Credo che Pesaro possa essere proprio una città di questo tipo in questo momento. Quindi raccogliamo molta volontà ad aprirsi e ad aprirsi anche a una svolta. Vedo invece un centro-sinistra molto arroccato a guardarsi all'interno, alle divisioni interne e anche per la scelta del candidato sindaco. E quando un partito è molto concentrato sulle divisioni interne perde un po' di vista quello che accade oltre il loro confine. Forza Italia già attiva i tavoli di lavoro per la valutazione caso per caso dei 38 comuni provinciali che andranno alle urne a giugno. Urbino verosimilmente c'è la possibilità di avere il terzo mandato quindi torneremo sulla candidatura di Maurizio Gambini. Pesaro è la città capoluogo e soprattutto dopo la vittoria ad Ancona l'anno scorso insomma diventa strategica in questa campagna del 2024 ma anche Fano che è la terza città delle Marche sono all'attenzione del tavolo nazionale e regionale del centro-destra quindi non solo a livello locale ma anche a livello nazionale si guarda attentamente e si è molto attenti ad accogliere le istanze di mondi dell'associazione, dell'impresa che sono attivi e che rispondono molto bene.